Oggi qui all'istituto alberghiero dei Gazzoldo degli Impoliti abbiamo fatto una bellissima giornata con i ragazzi, erano più di 100, dove le ho fatto una lezione di base, di pasticilia di base, per farle capire cosa c'è dietro il nostro mestiere, quanto studio ci può essere anche dietro una semplice pasta frolla, quanta professionalità uno deve metterci in quello che fa. Li ho cercato di incuriosire facendole capire che non sempre si deve stupire con cose complesse, si può stupire il cliente anche con una cosa semplice, ma fatta bene e fatta con professionalità. Ho voluto arrivare a loro dandovi questo messaggio, cercate di fare questo mestiere con più professionalità possibile e meno improvvisazione. Bravi, domande, ero interessati, facce belle, con belle espressioni, mi sono piaciuti molto.